buongiorno il vangelo di giovanni ci propone oggi una splendida meditazione sul rapporto tra il figlio che è gesù e il padre che lo ha mandato nel discorso che fa gesù stesso al capitolo 5 del vangelo i versetti dal 17 al 30 ci viene manifestato questo mistero che all'uomo è rivelato il che significa che è donato cioè chi non soltanto ode la parola ma la ascolta cioè la mette in pratica viene coinvolto nello stesso mistero d'amore e di vita vera il testo mostra come il figlio e il padre sono uniti profondamente tanto che al figlio è dato tutto ciò che è del padre ogni sua prerogativa quello che il figlio compie lo ha visto fare al padre e dal padre ha ricevuto il potere di farlo e qual è questo potere di che cosa si tratta si tratta di dare la vita è il padre colui che è fonte di vita ed è il figlio che questa stessa vita ha avuto il dono di poterla donare a quanti sono morti e non soltanto morti nel corpo quanto soprattutto morti nell'anima e nello spirito è il figlio che diventa mediatore unico di quella sorgente di vita che è il padre scopriamo allora che il padre è il vero protagonista di tutto il mistero pasquale è colui che sta dentro oltre che accanto al figlio fino alla fine ed è colui che senza abbandonarlo rende possibile l'uscita dal sepolcro di quel figlio che diventa primogenito di tanti altri fratelli pure sepolti eppure risorti nella vita vera ricevere la vita che conta quella che riempie lo spirito e in fondo l'anelito di tutti noi sia che ne siamo coscienti sia che non lo abbiamo presente l'uomo è fatto per questa vita e gesù viene a dirci che chi crede in lui cioè chi ascolta quella parola che lui fa risuonare ma che viene dal padre ecco che rimane coinvolto e il giudizio finale quel giudizio che è un confermare e riconoscere quanto si è vissuto diventerà la chiave d'accesso per sempre a questa vita vera crediamo che siamo fatti per questa eternità crediamo che siamo anche noi dello stesso profumo di divinità che il figlio ci dona manifestando il volto del padre crediamo che siamo fatti per un oltre e che non ci dobbiamo accontentare delle cose più banali perché l'essere umano ha una marcia in più quando si lascia donare la vita che viene dall'alto attraverso il figlio gesù la sua parola e la nostra via la pasqua ce lo ricordo ancora una volta siamo fatti per la risurrezione e per la comunione con il padre buona giornata